30 novembre 1874 nasce Sarah Winston Churchill uomo politico, scrittore e giornalista inglese leader del partito liberale e poi di quello conservatore ricopre più volte cariche ministeriali durante il ventennio fra le due guerre il 10 maggio 1940 diventa primo ministro chiamato a dirigere il suo paese in un momento drammatico Churchill dimostrò grandi doti di coraggio e di fermezza nell'affrontare e sconfiggere le potenze dell'asse a dispetto dei suoi indiscussi meriti nel 1945 nelle prime elezioni politiche del dopoguerra viene inaspettatamente sconfitto dal laburista Attlee nel 1953 riceve dall'Accademia Svedese il premio Nobel per la letteratura muore a Londra il 24 gennaio 1965 muore a Londra il 24665